Ciao a tutti, benvenuti e bentornati. Io sono Shadi e oggi parliamo di verbi irregolari. Conosciamo già quattro verbi irregolari. Essere e avere, lezione 6, lezione 7, lezione 8, lezione 9 e lezione 10. Conosciamo anche andare e venire, lezione 19. Se vi ancora non iscriviti al nostro canale, quindi iscriviti al nostro canale, aggiungi il nostro canale, perciviti al nostro canale, perciviti al nostro canale. Oggi è ora, cominciamo! Pogna! Pogna! oggi начнём с глагола fare diòlet глагола fare в любой итальянском словарь посвящается больше страниц, чем любое другое слово в итальянском языке Потому, что, с глагola fare, мы делим много всего. Мы делим устойчивое выражение, мы делим много глагол через fare. Fare, в латинском, bella facere, поэтому, когда мы ее думаем о том, что вы сделаете, я делаю, только взять, нет, suicide, и мыfelем вы делаете, их делаете. Фотографию. уч Audition, Демор nanas, fare la doccia fare un viaggio fare colazione fare la spesa compite i prodotti fare spese e di alle shopping e compite adegno fare il furbo fare benzina fare scherzi fare attenzione a fare una gita fare una passeggiata fare una passeggiata fare rumore fare paura fare pace fare amicizia fare un viaggio italianico fare vedere paccasat fare sapere fare piacere fare piacere fare piacere fare una festa fare un discorso discorso fare lo sport fare lo sport fare l'auguri pazdravliat 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 maria fa colazione al lavoro maria fa colazione al lavoro noi facciamo colazione in ufficio mi fa colazione al lavoro voi fate colazione voi fate colazione in cucina voi завtracate na kuhnia или tam maria e paolo fanno colazione al bar loro завtracajut v bare или v caffè anche la glagola fare se sprae cosa fai nel tempo libero che ti diališ v svobodno vrema ti giovai io gioco tennis faccio yoga vado in piscina faccio un corso di italiano ascolto muzica leggo libri cosa fai la mattina чем zanima il pomeriggio чем zanima se posle abida cosa fai dopo cena чем zanima se posle uggen cosa fai la sera чем vecerami zanima cosa fai il weekend o cosa fai il fine settimana чем ti zanima se pa vengadnim che fai faccio merenda чем ti zanima se io dialog poltnik che fate чем vi zanima facciamo la spesa mi occupiamo prodotti che fa paolo che dice paolo fa gli esercizi non dice obražnini che fate che dice facciamo una passeggiata mi prego la che fanno i ragazzi che gli eserci fanno giro macchina a ne kataccia na macchina che fa lucia che lucia делает fa la doccia fanno принимai duch si 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 fai e per il raz vizio per raz poznacom lusca scari se spra chiam vi zanima tese vizio quale u va prof si cosa fai vi говорite sono medico, sono ingegnere, sono insegnante e non possiamo parlare di quello che voglio fare non è stato un altro articolo per la professione faccio il medico, faccio la segretaria, faccio l'insegnante faccio l'impiegato o l'impiegata faccio l'architetto, faccio il poliziotto, faccio l'avvocato, faccio la cameriera, faccio il cantante queste fary мы пользуем тоже, чем вы занимаетесь и по жизни, и чем вы занимаетесь сейчас, и мы понимаем по смыслу но если вы хотите, чтобы вас не поняли неправильно просто скажите, che lavoro fai? это точно, чем вы занимаетесь по профессию глагола stare io sto, tu stai, lui, lei, lei уважительna sta noi stiamo, voi state, loro stanno come stai, 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 come molto bene, molto bene, abbastanza bene, non c'è male, 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 ma è vero come il russo, è normale, non molto bene, non c'è bene, male, molto male, molto bene. Qui стante di migraia è il pomeriggio, io sto a casa il pomeriggio. Ecco il pomeriggio, io sto bli con gli bambini. IoITE bis dire tre��, danno s cheapo, verbade immer, Очень часто глагол «старый» на юге Италии пользуют вместе глаголом «essere». Они не говорят «io sono casa», а говорят «io sto a casa». «Io sto a lavoro», «io sto a lavoro», «io sto a Roma», «io sto a Napoli». Если вы в Италии и общаетесь с человеком, а он пользует глагол «старый» вместо глагола «essere», сразу понятно, что это человек из юга Италии. Следующий глагол «это дире» «это тоже в латинском языке «дичере», поэтому первое слово «дико». «Iо дико», «tu дичи». «Луи», «лэй», 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 «вэгитлина», «дичи». «Нои diciamo», «вы дите», «лэро диконо». «Iо дико tutto» «а Мария», «я скажу всё» «а Мария». «Ио дико ла верита», «я говорю правду», «tu не дичи ла верита», «тенегаврис правду», «лей дичи ла верита», «а не говори правду», «нои дико ла верита», «вы дите ла верита», «лэро диконо ла верита». «Ио дико bugіе», «я вру» «tu дичи bugіе», «люи, лэй дичи, лэй дичи бужіе», «нои diciamo bugіе», «лэро диконо bugіе». «ДАре дат» или «дават» «Ио да, ту дэй», «лэй», 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 «лэйо вегитлина», «да», «нои дямо», «вы дате, лоро дэнно». Trete lezzo отличается от предлog da, to, sto, наверх, udarenia. Обычно dajut dengi, ili, saveti. Io do i soldi, io dajut dengi, tu dai consilii, ti dajus saveti. Lui da la penna, on dajut rucu, noi diamo libro, mi dajum knige, voi date la macchina, vi dajute maschino, e loro danno i soldi, oni dajut dengi. Slelice glagola paspisek bere. Anna toje v latinskem bela bevere. Anna tak spregajetsa. Io bevo, tu bevi, lui, lei, lei uvejite ne beve, noi beviamo, voi bevete, loro bevano. Io bevo l'acqua, tu bevi la bira, lui beve il vino, noi beviamo la coca cola, voi bevete la vodka, e loro bevano l'acqua minerale. Uscire, uscire et vi khadjit ili gulat. Wat? Io esco, Tu esci, lui esce, noi usciamo, voi eschite, loro escono. Io, la mattina esco di casa alle sette. Ja vichażu z doma alle sette. Ano, jestli ja скажu, sabato sere io esco ko li amici, Znači, sabato sere ja ne budu doma, ja vichażu, ja pijdu gulat z druziami. Io esco ko li amici. Znači, ja ne astanez doma, ja vichażu e pijdu gulat. Adim malinko nuanse z glagola uscire. Uscire ne advicajet na vabros kuda. Znači, ja vichażu pijdu kudata, Io esco, vado al cinema. Nelje gavarit io esco al cinema? Cari amici, qui finisce la lezione. Se la lezione vi è piaciuta, mettetemi un mi piace. Se non vi è piaciuta, mettete non mi piace. Iscrivetevi al canale. Buon italiano a tutti. Ci vediamo alla prossima. Ciao cacao, arrivederci. Ciao c'è.